Will Smith e Yada Pinkett sono sposati da oltre 20 anni e, nonostante lo scorrere del tempo, sembrano due eterni ragazzi, affiatati ed innamorati. Sui social o sui red carpet, la coppia di attori non perde occasione per farsi immortalare insieme o per scambiarsi dediche romantiche. Eppure Will e Yada, che hanno due figli, Jaden e Willow, c'è anche tre, che Smith ha avuto dal primo matrimonio, hanno attraversato momenti non semplici, di cui l'attore ha voluto parlare per la prima volta durante la sua ospitata allo show Red Table Talk, condotto dalla moglie e a cui era presente anche la figlia Willow. Come riporta il Daily Mail, Will Smith ha ricordato in diretta un periodo di crisi molto forte, rivolgendosi a sua figlia. C'è stato un periodo in cui la mamma si svegliava e piangeva, ha pianto per 45 giorni di fila. Ho iniziato a scrivere un diario. Succedeva ogni mattina. Penso che sia stato il momento peggiore del nostro matrimonio. Stavo fallendo miseramente. Eppure il peggio sembra passato. I due hanno dichiarato che ormai non si definiscono più sposati, ma compagni di vita. E forse non è un caso che, nei mesi passati, dal suo account Instagram la Pinkett avesse pubblicato un post in cui affermava. Ho visto molti matrimoni dissolversi intorno a me, è stato davvero doloroso. I matrimoni cambiano. Certe volte hanno bisogno di essere ripensati e trasformati, altre volte sono semplicemente finiti. Un post condiviso da Iada Pinkett Smith A detta di Iada, il punto è trovare pazienza ed amore sufficienti ad uscire dalla tempesta più forti di prima, insieme. Un amore grande, di cui si era avuta testimonianza già lo scorso maggio, sempre durante Red Table Talk, quando Iada aveva incontrato Sheree e Fletcher, prima moglie di Will. Will e Sheree erano ancora sposati quando Iada ha incominciato a uscire con lui. Non è stato facile. Mi sono sentita in colpa. Avrei dovuto fare un passo indietro, aveva ammesso l'attrice. Eppure ogni difficoltà, fin da allora, è stata superata, come quando la Pinkett si era ritrovata a conoscere il primo figlio di Will Smith, avuto dalla Fletcher. Si trattava dello stesso Trey che ora è cresciuto, ha 25 anni ed è legatissimo alla sua seconda madre.